Bentornati, finalmente in questo nuovissimo video di questa rubrica in cui andremo a litigare probabilmente. Abbiamo fatto già due video su questa rubrica, voi magari non lo sarete accorti. Il primo riguarda Zarud, mentre il secondo abbiamo parlato appunto della Kanto che ci ha rotto le scatole. Quindi in questo terzo video andiamo a rincarare la dose ragazzi. Intanto devo trovare un po' un nome a questa serie perché ho qualche idealmente però non ho ancora messo giù niente di ufficiale. Quindi se voi avete qualche suggerimento voglio aspettare anche voi nei commenti un'idea per il nome a questa serie in cui andiamo appunto a parlare di opinioni scomode. Quest'oggi parleremo appunto secondo un commento che ho letto nello scorso video se la regione di Sinnoh, la quarta generazione, è sopravvalutata oppure no. Quindi io mi aspetto veramente di tutto e di più da quello che dirò in questo video, quindi farò attenzione. Ma vi aspetto anche a massimo supporto qui sotto da parte vostra con un bel commento ragazzi sulla vostra opinione ma anche un bel mi piace che come sempre è molto molto utile per supportarmi e mandare avanti il canale. Quindi mi raccomando non litighiamo troppo e partiamo con il video. Beh come posso cominciare questo video? La quarta generazione i giochi di Sinnoh sono veramente speciali per me. Rappresentano un periodo in cui ho giocato a Pokémon veramente per tantissimo tempo. Mi ricordo i tempi di Pokémon Platinum in cui tutti avevamo un DS, avevamo Pokémon Battle Revolution per la Wii, ci sfidevamo di continuo. I tempi delle scuole medie mi ricordo che tutti avevano Pokémon Platinum ed era il gioco nel momento. Quindi questi giochi mi legano a tantissimi ricordi del passato. Quindi giochi che ho veramente apprezzato ma la domanda è sono effettivamente sopravvalutati questi giochi? Beh sicuramente ragazzi i fan sono molto molto affezionati a questi giochi. Un po' come molti fan lo sono ai giochi di canto perché sono così giochi importanti. Giochi molto molto venduti, quelli della quarta generazione, la regione di Sinnoh che appunto ha visto il passaggio dal Game Boy Advance al Nintendo DS. Quindi un passaggio corsale. Sono importanti sì, i fan sono molto legati a questi giochi e sinceramente è anche normale perché sono giochi veramente molto molto belli. Non sono perfetti perché nulla è perfetto in questo mondo, nessun gioco, nessuna persona, niente di niente. Però adesso sono giochi molto molto importanti ragazzi. La regione di Sinnoh è una regione veramente molto molto interessante. Alcune appunto magari ce l'hanno però con questi tra virgolette Sinnoh Faghi che sono troppo troppo legati a questa generazione. Infatti il commento che ho letto per fare questo video ha utilizzato il termine Sinnoh Faghi. Un po' come Canto Faghi dicendo ci sta ragazzi perché effettivamente la regione di Sinnoh è un argomento delicato da affrontare nei commenti, in un video, via dicendo. Perché i fan sono molto molto legati a questa regione, ci sono molto molto affezionati. Io penso che quando uscirà il remake di Sinnoh per Nintendo Switch a questo punto perché la console, capitemi, è questa, scoprirà il finimondo. Cioè saranno veramente tutti entusiasti, la maggior parte, perché non a tutti può piacere la regione di Sinnoh. Penso che sia normale che non a tutti possa piacere. Però penso che la stragrande maggioranza sarà veramente eccitata al massimo. Quindi tutti sembrano apprezzare, quasi tutti, questa regione di Sinnoh. Ovviamente, come vi dicevo, la regione di Sinnoh, i giochi di quarta generazione, Diamante, Perle e Platino, non sono perfetti. Ogni cosa ha dei difetti. Quindi dire che è sopravvalutata, probabilmente no. Logicamente c'è un attaccamento a questa generazione, a questi giochi, che è veramente molto molto forte. Però, come vi dico, capisco questo attaccamento perché anche a me piacciono questi giochi. E questi giochi, insomma, mi legano a ricordi molto molto importanti nella mia adolescenza nel mondo Pokémon. Quali sono però questi difetti che tendono, insomma, ad essere nascosti magari dai fan in questa generazione? Beh, molti difetti che ho detto in giro riguardano l'assenza di tipi fuoco, perché parliamone. A Sinnoh abbiamo assolutamente Infernape, abbiamo Magmortar, abbiamo Rapidash e poi chi abbiamo? Pochi altri. Abbiamo E-Tran, che però si trova assolutamente nel post-game. E praticamente, basta. Non c'è nessun tipo fuoco oltre a questi e pochissimi altri, ma mi pare che siano solamente questi. E la regione di Sinnoh. Quindi, io mi chiedo, ma com'è possibile che non hanno fatto attenzione a questa cosa? C'è un tipo fuoco? Lo vai a cercare a Sinnoh? Niente, non lo trovi. Non c'è il tipo fuoco. Quindi mi chiedo come sia possibile che non abbiano fatto attenzione, non abbiano almeno modificato questa cosa in modo da equilibrare un po' i typing, anche compreso il tipo fuoco, che è veramente debolissimo nella regione di Sinnoh. C'è veramente pochissima roba, se non niente da utilizzare. Se non prendi lo starter, o prendi Rapidash, o Magmortar, oppure ti attacchi a non ti dico cosa. Un altro problema di questi giochi, che leggo molto molto spesso in giro, e sinceramente sono anche in parte d'accordo, è che si usa sempre lo stesso team, gli stessi Pokémon in questi giochi. Effettivamente può essere vero, ragazzi, perché la regione di Sinnoh è piena di Pokémon interessanti, ha dato un sacco di evoluzioni a Pokémon vecchi, e la cosa mi piace. Mi piace tantissimo, anche se molti non sembrano apprezzare molte evoluzioni di Pokémon vecchi, perché sono molto molto legati a Kanto, e quindi, vabbè, discorso vecchio. Però, effettivamente, tra tanti mostriciattoli che troviamo nella regione di Sinnoh, in molti non li userei minimamente in un'avventura, non mi sognerei mai di utilizzarli in battaglia. Quindi, ho utilizzato 100.000 volte Staraptor, 100.000 volte Luxray, Flottel, e via dicendo. Tutti i Pokémon che ho utilizzato. Ok, ci sta a variare, però molti Pokémon non si prestano molto, insomma, ad essere utilizzati per tutta l'avventura. O meglio, questo è quello che ho letto per la maggior parte in giro tra le opinioni dei fan. Sinceramente, un po' sono d'accordo. Molto spesso, anch'io, ho utilizzato sempre lo stesso team, o meglio, ho fatto poche variazioni nella regione di Sinnoh. Quindi, è difficile, magari, utilizzare tanti Pokémon diversi in quella regione. Magari, molti Pokémon non sono molto utilizzabili. La quarta generazione, quindi, è veramente buona. Non fraintendetemi, però, sinceramente, ci sono cose in cui altre generazioni, magari, sono migliori. Per esempio, la trama. È una buona trama, quella di quarta generazione. Solida, ottima. Ci sono dei leggendari fantastici, mi piace tantissimo, che hanno introtto per la prima volta il concetto di origini dell'universo Pokémon. Le origini. Questa cosa qua, ragazzi, la prezzo tantissimo. Anche se, la trama di quinta generazione, per me, almeno per me, resta ancora inarrivabile. Però, la magia che ha offerto la quarta generazione, anche con il postgame, sinceramente, hanno delle zone che mi piacciono veramente tantissimo. Assignano il postgame, il parcolotto dall'introdotto dopo Smeraldo. Una cosa veramente interessante, l'ambientazione, anche se alcuni non le apprezzano, la grafica, le animazioni troppo, troppo lunghe. E lì, posso essere d'accordo. Quindi, la regione di Sinnoh è positiva, come quarta generazione. Non è così sopravvalutata, secondo me, insomma, merita il suo successo. Sicuramente ha dei difetti anche lei. Ci sono generazioni migliori sotto altri punti di vista. Per esempio, la trama in quarta generazione è inferiore a quella di quinta, secondo me, perché quella di quinta resta inarrivabile. Però, dire che è sopravvalutata, secondo me, è un pochino troppo. Forse, vista così, perché i fan non sono troppo, troppo affezionati, non si può toccare la quarta generazione. E quindi è un argomento abbastanza tabù, difficile da toccare. E perciò viene vista un pochino così da alcuni fan, che la ritengono sempre valutata per il troppo affetto. E questa ha da parte di propri fan. Per questo, comunque, sia dell'idea che la quarta generazione sia la migliore mai creata nel complesso da tutti i giochi. Quindi, sì, noi anche Art Gold e Soul Silver. La quinta generazione ha una trama migliore, di quella della quarta, e a me piace sinceramente di più, comunque sia, la seconda generazione in generale. Anche se la quarta rientra nella mia top 3, perché ho sempre detto che Pokémon Platino, comunque sia, è uno dei miei giochi preferiti nel mondo Pokémon, nella top 3. Diamante Perla sono, come sempre, un pochino meno completi, in stile Sole Luna, Rubino e Zaffiro. Però, erano degli errori che facevano all'epoca. Ora, con i DLC, si spera che non facciano più certi errori, ovvero di far pagare a prezzo pieno dei giochi che non sono completi. Tanto poi fanno uscire i terzi capitoli, quindi è una schifezza bella e buona. Quindi, occhio, perché secondo me la quarta gen non è sopravvalutata. Meta, come vi ho detto, il suo successo, la sua fama, solamente che bisogna riconoscere i suoi difetti. Perché difetti, ovviamente, come ogni cosa ne ha, perciò è giusto ammirarla, innalzarla al cielo. Però, riconoscendone comunque sia i difetti, per quanto mi riguarda, bisogna essere giusti nelle cose. E che cavolo. Quindi, ragazzi miei, vediamo un po' quest'oggi quanto riusciamo a litigare nei commenti. Io vi ricordo anche di suggerirmi, magari, un bel nome per questa serie, che è già al terzo episodio. Ragazzi, siamo già al terzo episodio e chissà su quale argomento litigaremo la prossima volta. Sono veramente curioso di scoprirlo, quindi, mi raccomando, suggeritemelo nei commenti. E anche un bel like di supporto, per supportare il video e il canale. Mi raccomando, passate anche da Instagram. Per oggi possiamo dire, quindi, che dal buon Rocket è tutto. Quindi, io vi ricordo che vi auguro un buon pomeriggio, una buona giornata. E, ovviamente, come sempre, bye bye!